Il mercato è allegria, si mormora, si parla, si ride, si scherza Venite sul buon mercato, dai, su, mettiamo un po' di bambini, che ora? Sei domenica ci sei? Come no? Eccoci qua, dal mercato di Cesena a domenica, cari ospiti Ti assorbe con i colori, i sapori, gli odori Il mercato di Cesena ti aspetta tutti i mercoledì e sabato mattina Domenica 10 aprile e domenica 24, il mercato ti aspetta tutto il giorno